Fine della serie positiva dopo tre vittorie consecutive che avevano acceso anche una piccola speranza in chiave playoff. Il Gravina torna a conoscere l'amarezza della sconfitta nel campionato di Serie D. Si arrembe di misura 1-0 a Savoia nello scontro diretto andato in scena sul sintetico del vicino Campani, che così blindano il quinto posto ed ipotecano l'accesso agli spareggi. Pubblico numeroso sugli spalti, nonostante la pioggia battente, squadra che vince non si cambia, la pensa proprio così Valeriano Loseto che schiera lo stesso 11 capace la scorsa settimana di espugnare il città degli olivi di Bitonto. Murgiani pericolosi in avvio con un colpo di testa di Rizzo deviato in corner, replica la squadra di Torri annunziata con l'ex cacace su punizione, l'oliva c'è, padroni di casa vicini al vantaggio prima del quarto d'ora ma dentamaro da posizione favorevole, calcia su Savini, c'è grande intensità, ci sono tanti contenuti agonistici tra due squadre che non si risparmiano affatto. La contessa sembra indirizzata sullo 0-0 all'intervallo ma due minuti prima del riposo il Savoia cancella improvvisamente all'equilibrio, tentamaro sbaglia l'appoggio per l'oliva, Rechic ringrazia e porta in vantaggio i Campani e il Gravina nel corso della ripresa a fare la partita, conclusione di Santoro rimpallata, perdono Loseto allontanato per proteste dalla panchina i giallo-blu, dentro potenza per Rizzo, il neo entrato prima della mezz'ora fa centro direttamente su punizione ma è tutto inutile per la segnalazione di un fuorigioco che fa infuriare i padroni di casa, secondo loro nessun giocatore in aria interviene sulla traiettoria, ci provano comunque sino al termine i giallo-blu, altra conclusione di Santoro murata dai Campani, mentre si perde sul fondo il successivo cross di potenza e in pieno recupero poi è la dea bendata a voltare le spalle ai padroni di casa quando Romeo colpisce un clamoroso palo interno, l'ultimo tentativo dei locali porta la firma di Chiaradia, ma la mira è imprecisa, finisce così 1-0 al vicino, sorride il Savoia che conferma il proprio piazzamento nell'ipotetica griglia play-off, il Gravina invece mette fine alla sua serie positiva ma resta in ottava posizione in classifica, la salvezza diretta non è ancora matematica ma è molto vicina per i murgiani.